Mentre qua si prepara il connazionale René Cournoyer, anche lui ormai un affezionato di questa competizione, il ginnasta québécois. Anche lui ha partecipato a tutte le edizioni dei mondiali a partire da quella del 2015 senza però finora centrare una finale. Ottima questa rondine dallo slancio che aumenta la difficoltà che non è eseguita unicamente di forza. Questa è la bilancia invece, rondine le spalle all'altezza degli anelli, bilancia le spalle superiore agli anelli. Ionassone Yamawaki, difficoltà di la prima perché ha gambe tese, corpo carpiato, C l'altra perché è raggruppata nella sua esecuzione. E' molto elevata questa uscita, ancora una volta il doppio Zucara, ripetiamolo ancora una volta, doppio salto sull'asse trasversale e doppia rotazione, doppio avvitamente sull'asse longitudinale del corpo. Ecco qui, Ionassone e Yamawaki, queste rotazioni attorno all'asse delle spalle e questa invece era la fase finale. Molto bello come si è potuto vedere l'introduzione dell'avvitamento con il lavoro delle braccia.